E eccomi a voi con questa seconda videonota della serie Mode e modi della comunicazione, che può essere anche la prima videonota se vogliamo considerare quella precedente solo come introduttiva della serie. Questa videonota si intitola Internet delle cose e inizia con una domanda che vorrei porvi. Qual è l'innovazione che più di ogni altra ha cambiato la nostra vita nell'ultimo secolo? Ovviamente Internet, mi direte, perché ha cambiato proprio la nostra esistenza in tutti i modi in cui può essere cambiata. Nel lavoro, nei rapporti personali, nel modo di apprendere, di progettare, di ricordare e in definitiva di comunicare. Sappiamo che Internet nasce con il nome di Arpanet per le istituzioni governative, trasferendosi poi alle università e infine alle persone che da spettatori passivi acquistano sempre più il ruolo di attori delle comunicazioni World Wide Web, diventandone i protagonisti tramite le mail, i blog, i social network. E oggi? Oggi inizia prendere forma una nuova realtà di Internet, quella delle cose, degli oggetti collegati alla rete. Gli oggetti si rendono riconoscibili e acquistano quasi una propria intelligenza grazie al fatto di poter comunicare dati su se stessi e accedere ad informazioni aggregate da parte di altri. Le sveglie suonano prima in caso di traffico, ad esempio. Ma è anche possibile la comunicazione interattiva da oggetto a oggetto, non solo da oggetto a persona. È il caso delle piante che comunicano all'innaffiatoio quando è il momento di essere innaffiate. E mi scuso con le piante se giuridicamente sono oggetti. I campi di applicazione sono molteplici, dagli usi domestici alle applicazioni industriali, alla logistica, all'infomobilità, all'assistenza remota in genere. Tutte le cose possono acquisire un ruolo attivo grazie al collegamento alla rete. Rendiamoci conto di che cosa significa creare un mondo elettronico che è una mappa di quello reale, in cui ogni luogo e ogni cosa ha una sua identità elettronica costituita da un codice di radiofrequenza per poter ricevere e trasmettere informazioni in rete. Il nostro più amato e inseparabile dispositivo mobile connesso alla rete, lo smartphone, sta diventando sempre più una centrale operativa con le più svariate funzioni, da ultimo usato addirittura per gli acquisti in sostituzione della carta di credito. Ma se ciò che è mobile insieme a noi diventasse anche indossabile, bastano pochi centimetri per evoluzionare tutto. Spostare un dispositivo dalle mani come lo smartphone al polso, come lo smartband mi pare che si dica, significa concedere un certo grado di autonomia sensoriale all'oggetto che risponderà a inavvertibili impulsi corporei provocati dalla mente. Come attualmente facciamo con i comandi vocali se non abbiamo voglia di digitare sulla tasterina del telefonino, così basterà un comando di pensiero. L'hardware, la macchina, comunicherà al nostro posto, intercettando le nostre scelte, le nostre preferenze, i nostri movimenti. In parte è già così quando rilasciamo informazioni navigando in internet. Esiste un'intelligenza di rete che connette queste informazioni con altre e dà risposte prima ancora che poniamo le domande. Avete mai notato il fatto che vi appare un banner o una pubblicità su un elettrodomestico o un luogo di vacanza che stavamo cercando solo il giorno prima o anche un mese addietro? Questo non deve spaventarci perché internet è anche un grande contenitore di informazioni mondiale ma sempre a servizio dell'uomo o almeno di chi non ha niente da nascondere e vive apertamente e lecitamente. Così, tornando agli oggetti che pensano o parlano per noi, personalmente lo vedo come un notevole avanzamento tecnologico verso la robotica a servizio delle persone e delle imprese, che aumenta la produttività, l'efficienza e riduce i costi. Persone, dispositivi, processi e dati sono connesse in un connubio virtuoso che sta cambiando il modo di vivere e di lavorare. Essendo però il mio un ragionevole e non scontato ottimismo, vorrei concludere questa videonota dicendo anche qualcosa che rivendica l'aspetto umano e l'umanità. Si tratta del contrasto tra la ricchezza di intelligenza, quella vera nostra, e la povertà degli atti quotidiani cui siamo costretti. Contrasto che non sarebbe così profondo se vivessimo in una società anche solo minimamente meritocratica. Ma tant'è. Si trova in rete qualche mio scritto sull'intelligenza collettiva che potrebbe realizzarsi appieno se ci fosse una maggior solidarietà e cooperazione fra gli uomini. La conseguenza dell'isolamento è invece la stupidità collettiva, altro che intelligenza, di tanti individui che sono sì interconnessi grazie a internet e alla telematica, ma solo per fini egoistici propri, che non pensano alla società civile, alla solidarietà sociale, all'informazione libera e indipendente. Cerchiamo allora di connettere prima ancora di essere connessi. Alla prossima videonota.